Dottoressa Sara Iannone, una grande edizione, soprattutto un'edizione istituzionalmente importante, celebrativa dei 70 anni dalla Costituzione italiana. Che bella idea! Sì, sì, ma non si tratta di aver avuto una bella idea, è proprio una realtà, è quasi un'esigenza, nel senso che al di là del fatto che cada il settantesimo anniversario dell'utilizzo della Costituzione italiana, del tricolore e dell'inno, è un'Italia che ha una grande necessità e un gran bisogno di avere e sentire che il proprio popolo la ama ancora e credo che la stessa esigenza la senta il popolo, la gente, i cittadini. Per cui più cose noi facciamo in questo senso e più riusciamo a dare speranza, riusciamo a far sì che tutti possano veramente riapprezzare i valori, i valori veri, essenziali di una nazione e per quante persone hanno dato la loro vita per far sì che questa povera, bella, meravigliosa nostra Italia fosse chiamata tale. Quest'anno una bellissima novità, quella della presenza della banda, parte della banda dell'esercito italiano con un direttore d'orchestra, capitano donna. Ci ha sorpreso, dottoressa? Sì, ma non solo. Io ho visto queste cose eccezionali questa sera perché c'era il capitano della banda dell'esercito e una donna di 24 anni, un capitano che dirige 103 uomini, credo sono due donne all'interno. Ed è l'unica donna al mondo a dirigere una banda istituzionale. Come abbiamo visto, l'unica donna con la Cristlin, la Presidente dell'Enit, che è l'unica nella federazione calcio e che rappresenterà in Russia, insomma, devo dire veramente le donne solo con i propri meriti, con il proprio lavoro, senza necessità di quote rosa, azzurre, verdi e di qualsiasi colore, veramente riescono pian pianino ad appropriarsi di quello che gli spetta. Giustissimo, grazie dottoressa e complimenti ancora. Grazie.